E' ufficiale la centenaria ferapessima, nonostante i recenti cavigli legali, si farà. La manifestazione è giunta alla 281esima edizione e si sta preparando ad offrire il meglio. Lo vedete alle mie spalle, alcuni capannoni sono già montati, altri sono in costruzione. La campionaria sta prendendo forma nell'area mercatale sulla circonvallazione di Manduria. Sono stati già montati quasi 4.000 metri quadrati di copertura, 400 invece per la sala conferenze e altrettanti per il punto ristoro. Ci sarà un baby parking, la hall d'ingresso e i vari collegamenti tra i capannoni. La gestione e organizzazione della campionaria è stata alla fine affidata alla Men's Solution, impresa di Pulsano che legittimamente è con serenità alla titolarità di questa edizione della pessima. Il contenzioso era nato a seguito dell'esclusione dalla gara della Quiet Please SRL, un'impresa milanese del compositore manduriano Ferdinando Arnò, che aveva per questo presentato un ricorso allungando i tempi dell'organizzazione. La fiera sta dunque procedendo spedita all'inaugurazione, ci sarà giovedì 7 marzo tra due settimane all'incirca alle 15.30 con l'intervento di importanti autorità. Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ma anche il monsignor Vincenzo Pisanello, il vescovo di Oria, Michele Miliano, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Bari e il presidente Anci e l'assessore alla fiera Pessi, Mauro Baldari.